E' stata una telefonata a fermare la fuga degli innamorati, loro due quindicenni di Città di Castello, i maschietti poco più grandi entrambi del Lazio. Romanticismo e amore online che sono bastati a far perdere la testa a questi due quindicenni, al posto da spingerle a scappare di casa per raggiungere i fidanzatini conosciuti solo in chat. Per ora si è temuto il peggio per le giovanissime studentesse di Città di Castello, a scoprire prima le bugie e poi la fuga sono state le mamme parlando fra loro. Allarmate, le donne hanno chiamato immediatamente le figlie al cellulare, apprendendo che si trovavano alla stazione di Firenze insieme ad un ragazzo, che ha cercato di rassicurare le donne dando il loro numero di telefono e dicendo che avrebbe provveduto lui a trovare alloggio alle due ragazzine. Le madri, non convinte però da quel giovane sconosciuto, hanno provato a richiamare le ragazzine per andare a prenderle, constatando però che i cellulari di entrambi erano spenti e che quello del ragazzo squillava senza risposta. Impaurite che potesse essergli successo qualcosa, le due donne hanno chiesto aiuto agli agenti del commissariato di Città di Castello, che, valutata la situazione, hanno immediatamente attivato la geolocalizzazione dei telefoni. Dopo aver localizzato il telefono dello sconosciuto, gli agenti del commissariato di Fernate hanno subito avvisato il commissariato di Frascati, che a sua volta ha provveduto a inviare immediatamente una volante sul posto, senza però riuscire a trovarle. A quel punto l'operatore della sala operativa del commissariato non si è dato per vinto ed è risalito all'intestatario dell'utenza telefonica del giovane sconosciuto, che risulta essere la madre del ragazzo, e il numero di telefono di quest'ultimo. Dopo averla contattata, aver appreso dalla stessa, il luogo dove si trovava il figlio e le ragazzine, i poliziotti di Città di Castello hanno avvisato i colleghi di Frascati, che hanno subito inviato una volante sul posto, trovando all'interno del bed and breakfast segnalato le due giovani in compagnia di altri due ragazzi. I poliziotti a quel punto, dopo aver identificato i presenti, hanno accompagnato le due donne presso il commissariato, in attesa dell'arrivo dei genitori, che, dopo qualche ora, passato allo spavento, sono andate a riprenderle ringraziando gli agenti per l'aiuto.